Fotocamere e videocamere spesso non sono facilissime da usare, ma per fortuna hanno tutta una serie di modalità automatiche che ci tolgono le castagne dal fuoco. Oppure no. Nel corso del video di oggi andrò a spiegarvi perché, nonostante le macchine fotografiche e le videocamere siano molto migliorate nel corso degli anni, personalmente continuo, e credo che continuerò sempre, a utilizzarle sempre e solo in manuale. Ma ovviamente non vi chiedo di credere a me, rimanete fino alla fine del video perché ci saranno degli esempi pratici. Prima di cominciare io vi invito come sempre a iscrivervi al canale cliccando il pulsante rosso qui sotto. Se vi iscrivete adesso non andate poi a perdervi le mie risposte in forma di shorts verticali ai vostri eventuali commenti, domande o qualunque altra cosa mi scriviate qui sotto, insulti, improperi, qualsiasi cosa. Vi ricordo anche di lasciare un like a questo video, grazie a tanti di voi che lo stanno facendo, il mio canale sta andando discretamente bene e aspetto la soglia dei 25.000 iscritti per cominciare a scammarvi con i bitcoin. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia, nel corso del video di oggi vado a farvi vedere dei test che ho fatto con una fotocamera che non è proprio una macchina schifosa da due soldi. Stiamo parlando di Canon EOS R6, per cui una macchina bella, una macchina che ha tutte le carte in regola per performare molto ma molto ma molto bene. Eppure andrò a dimostrarvi come nel momento in cui andiamo a utilizzare le modalità priorità diventa molto difficile ottenere le fotografie che vogliamo. soprattutto diventa difficile ottenere le fotografie che vogliamo in un contesto variabile. Quindi in quel contesto dove molti di voi mi stanno dicendo eh no, se il contesto è variabile io devo per forza usare l'automatismo perché sennò non faccio in tempo. Andiamo a vedere che in realtà l'automatismo è proprio quello che ci frega quando abbiamo un contesto variabile. Variabile che cosa intendo? Noi abbiamo una scena dove la luce in realtà non è variabile perché ragazzi in una stanza come questa la luce non è variabile. In un ambiente di lavoro dove stiamo magari facendo delle foto a un evento la luce è difficile che sia variabile. Cioè durante un matrimonio non è che si accendono e si spengono continuamente delle luci. Ci sarà magari l'entrata della sposa ma la luce è quella durante l'entrata della sposa. Quindi una volta che noi abbiamo impostato la nostra macchina in manuale riusciamo a seguire la scena. Se noi la impostiamo in priorità riusciamo lo stesso a seguire la scena ma a patto che il nostro soggetto sia collocato nella porzione centrale del nostro fotogramma. Perché se noi abbiamo per esempio la nostra sposa collocata in centro, facciamo le fotografie, va bene. Se vogliamo decentrarla però, se vogliamo usare la regola dei terzi o fare una qualsiasi altra cosa, ecco che l'esposizione automaticamente sballa e sballa di continuo. Questa cosa se lavoriamo in manuale non succede ovviamente. E sento molti di voi che mi stanno già commentando, eh cosa ci vuole? Usi la compensazione dell'esposizione e sei a posto. Certo ragazzi ma a quel punto è come lavorare in manuale. Cioè se ogni volta devo compensare a quel punto sto in manuale e ogni volta compenso. Ma se sto in manuale quando vado a muovere l'inquadratura non avrò dei cambiamenti repentini e non avrò tutte le foto diverse di una stessa scena. Immaginatevi la sposa che entra e che passa. Se io lavoro in manuale avremo un'esposizione diversa in relazione a quanto la sposa è vicina alla fonte luminosa. Quindi sicuramente quando sta entrando sarà più illuminata, quando sarà completamente dentro sarà più in ombra. Ma quella è la corretta percezione che hanno anche le persone che stanno in chiesa. È evidente che quando la sposa è fuori al sole sarà più luminosa rispetto a quando entra in chiesa. Andare di volta in volta a compensare su ogni singolo scatto ci porta inevitabilmente ad avere magari l'abito della sposa sempre risposto correttamente però tutto il resto che sfarfalla. Si passa da un ambiente interno nero a un ambiente interno giusto con la sposa troppo scura. Tutto questo perché siamo in balia degli automatismi della macchina. Adesso spegniamo le luci e vado a dimostrarvi quanto detto. Come potete vedere siamo in priorità di diaframmi. Ora guardate attentamente che cosa succede. Passeremo in rassegna anche tutti i modi di lettura e quindi non è solo una questione di modi di lettura. Nel momento in cui io tengo il mio soggetto al centro vedete che non ci sono grossi problemi. Ma se io decidessi di utilizzare la regola dei terzi per fare questa foto vedete che immediatamente la mia fotocamera va a beccare la luce la retroilluminazione del mio soggetto e la foto sballa completamente o magari non sballa completamente però della stessa identica scena abbiamo poi 7 10 300 esposizioni tutte diverse non ce ne sono due uguali. Ora andiamo a fare questa prova andiamo a cambiare i modi di lettura andiamo a provare tutti i modi di lettura per vedere se tutti quanti danno questo problema. Devo anche dirvi che la modalità misurazione luce quindi la prima modalità è quella che mi ha dato i risultati migliori da questo punto di vista perché comunque cerca di capire un po' meglio che cosa sta succedendo. Nel momento in cui andiamo a utilizzare misurazione parziale che è una modalità che a me piace moltissimo però vedete che cosa succede nel momento in cui il mio soggetto è al centro io ho un'esposizione che è passabile non è neanche quella che voglio io perché in manuale io l'avrei fatta diversa però si avvicina molto. Appena io decentro il mio soggetto e vado a intercettare zone di illuminazione diversa ecco che va tutto a quel paese o meglio magari può anche andarci bene però poi avremo abbiamo fatto 10 foto avremo 10 esposizioni diverse quindi dovremo bilanciare 10 foto diverse e non è detto che tutte siano recuperabili. Le cose non possono che peggiorare se andiamo a utilizzare la lettura spot ovvero la lettura solamente di un pallino centrale è una modalità di lettura che a me piace moltissimo perché se io la posiziono sull'incarnato della persona sono in grado di fare l'esposizione corretta su quell'incarnato ma se appena io decentro l'inquadratura mi va a beccare la luce mi va a beccare il microfono appena io decentro l'inquadratura per giocare con la regola dei terzi o con altre regole di composizione o se il mio soggetto si sposta ecco che l'esposizione cambia completamente ed è impossibile lavorare in questo modo e sento già qualcuno di voi che mi sta commentando ma basta bloccare l'esposizione cosa ci vuole? sì certo quindi devo fare 300 foto e quindi faccio esposizione ricompongo scatto esposizione blocco ricompongo scatto esposizione blocco ricompongo scatto c'è una tortura a quel punto mi mettevo in manuale ed ero a posto facevo tutte le mie foto che è quello che faccio io di solito io vado sì sull'incarnato a prendere l'esposizione col metodo di lettura spot faccio la mia esposizione in manuale e poi scatto tutto il giorno con quell'esposizione e sono più o meno a posto poi c'è un luce cambio la mia esposizione in manuale se sono bravo mi sono già preso le due esposizioni prima che cominci l'evento vero e proprio e non ho grossi problemi ma continuiamo e andiamo a vedere che cosa succede col metodo di lettura media pesata al centro vedete che grosso modo la musica non cambia nel senso che per carità tutte le modalità che mi prendono a riferimento il centro performano meglio solamente se il mio soggetto è impalato al centro e questo è vero le altre due modalità mi danno una lettura che è un po meno disastrosa quando io vado a cambiare però il discorso è che comunque cambia a ogni mio movimento corrisponde una variazione di esposizione ogni volta che compongo la scena in modo diverso senza avere il soggetto piantato al centro avrò matematicamente una lettura della scena completamente diversa o anche solo parzialmente diversa il che mi costringerà dopo ad andare a fare delle micro regolazioni foto per foto per andare a uniformarle tutte e io non lo voglio fare questo lavoro non lo voglio assolutamente fare io voglio che le mie foto siano tutte uguali io posso tollerare che una mia foto sia più scura magari anche troppo scura nel momento in cui il soggetto si allontana dalla luce vedete io mi allontano dalla luce o meno luce perché sono più lontano regola dell'inverso del quadrato io posso accettare un'esposizione più scura e torniamo al punto giusto dove l'esposizione è corretta io posso accettare di avere delle foto con un'esposizione più scura perché trovo assolutamente accettabile che rimanendo corretto lo sfondo la luce sul soggetto sia più o meno intensa a seconda di quanto il soggetto è vicino alla luce questo mi sembra normale soprattutto in un contesto dinamico come quelli di cui si parla in questi casi quello che invece non trovo accettabile è di dover fare 300 foto 300 micro regolazioni per ciascuna foto dovendo poi andare a confrontare la prima con la seconda la seconda con la terza la terza con la quarta la prima con la quinta per controllare di essere ancora giusto per poi venirmene fuori comunque con delle foto che non saranno mai uguali non saranno mai uniformi perché sono state scattate con dei parametri troppo diversi senza contare poi le conseguenze sui parametri perché nel momento in cui io sposto la mia esposizione magari ho un'esposizione giusta quando il soggetto è al centro magari spostandomi di lato e lasciando lasciando al centro tutto questo nero la mia fotocamera mi dà un'esposizione per cui poi mi viene pure fuori mossa oppure mi dà un'esposizione per cui mi viene pure fuori con una profondità di campo troppo esigua e quindi le fotografie non vanno bene per quanto mi riguarda io non riesco a lavorare così non ci riesco non ce l'ho mai fatta una volta sola ho fatto una cosa del genere ho anche fatto un video in cui ve ne parlavo e ho usato proprio r6 in un contesto di teatro dove c'erano luci variabili devo dire che in quel caso l'ho trovato assolutamente accettabile quindi non è che non lo faccio mai lo faccio molto poco cerco proprio di farlo molto poco perché non è il metodo di lavoro che a me piace non vado matto per quel tipo di impostazione quindi tendenzialmente non lo faccio mai ovviamente va da sé che se io invece sto scattando in manuale io posso fare tutto quello che voglio a quel punto posso fare la mia scena prendere la mia esposizione e poi posso cambiare l'esposizione posso decentrare il soggetto usare la regola dei terzi fare tutto quello che voglio perché in manuale una volta che io ho preso il riferimento ho preso l'esposizione ho bloccato i parametri i parametri sono bloccati e non cambieranno al variare della mia posizione o al variare della posizione del soggetto e quindi la luce sarà pressoché sempre giusta almeno questa è la mia esperienza io trovo che una volta trovata la posizione in manuale poi ragazzi succede qualcosa accendono un faro sulla sposa abbiamo una rotella come compenseremo l'esposizione così andiamo a compensare uno degli altri parametri non ci vedo niente di scandaloso oltretutto sulle mirrorless adesso vediamo l'esposizione a monitor subito quindi è anche più facile accorgersi ancora prima di fare lo scatto di prova se c'è qualcosa che non va e comunque abbiamo l'esposimetro in macchina anche se lavoriamo in manuale quindi sappiamo dove ci troviamo se proprio vogliamo vedere sappiamo sempre dove ci troviamo questo è il mio modo di lavorare di affrontare questo tema ma adesso voglio sapere nei commenti che cosa ne pensate voi fatemi sapere se vi trovate meglio di me con un sistema come questo e attenzione voi mi potreste dire sì vabbè ma tu hai forzato la mano perché hai messo delle luci hai messo una retroilluminazione sì ragazzi ma l'ho fatto perché mi è capitato l'altro giorno di scattare in un contesto corporate dove avevo una situazione di retroilluminazione avevo le persone che stavano dentro in un'ampia stanza con delle finestre alle spalle un disastro i modi di lettura in automatico non hanno performato assolutamente ho dovuto mettermi in manuale in manuale le ho fatte tutte giuste dall'inizio alla fine per tutto il giorno anche cambiando posizione anche spostandomi in automatico la macchina non riusciva a capire ogni volta che avevo una finestra dietro ogni volta che una persona si spostava scoprendo parzialmente la finestra era letteralmente un disastro quindi secondo me in quei modi è molto difficile lavorare io lo trovo più difficile credo che sia più facile lavorare in manuale più difficile capire come sfruttare il manuale ma una volta che l'hai capito poi ottieni dei risultati migliori e più consistenti almeno questa è la mia esperienza fatemi sapere che cosa ne pensate in un commento qui sotto so benissimo che questo è un argomento divisivo quindi molti mi diranno hai ragione molti mi diranno sei un cretino io voglio i commenti di quelli che mi reputano un cretino perché così magari imparo qualcosa anch'io vi ricordo anche di iscrivervi al canale soprattutto se mi reputate un cretino perché potrete vedere un'evoluzione nel senso che io posso peggiorare ve l'assicuro signori è stato come sempre un piacere passare un po del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao